Ciao a tutti ragazzi da Corazionto 9, bentornati sul mio canale per questo nuovo video e ringrazio ragazzi finalmente il giorno della bustina speciale, ovvero del 30 giugno e lo sprint scudetto, eccoci qui con il fin del campionato in questa bustina speciale che troviamo solo oggi legata al tutto sport, quindi questa bustina è omaggio comprando il tutto sport che costa 1,20 così vi do anche tutte le notizie troviamo in questa bustina speciale, appunto vi ho visto la prima parte del fin di campionato che era la corsa d'inverno e adesso c'è lo sprint scudetto quindi 8 figurine omaggio per appunto completare il nostro album anche il corredo dello sport, vabbè io comunque tutto sport è uguale apriamolo insieme e vediamo cosa ci troviamo tutte le carte quindi speciali ragazzi, obbligatori per completare l'album quindi questo è un nuovo appuntamento con Calciatori Panini dopo tanto dopo gli aggiornamenti l'ho fatto e sì, quindi Calciatori Panini penso di vederci ancora solo un paio di volte, massimo 3 ovvero quando arriveranno le carte che ho ordinato da internet appena lo faccio perché mi dimentico sempre poi per l'aggiornamento finale delle carte da scambio e infine per l'album completo, spero Carlos Tevez, eccoci qui, guardate che foto ok Ciro Immobile, quindi Ciro Immobile sicuramente per il capocanoniere la Roma forse, non so se fosse come sorpresa, non so Antonio Conte sicuramente l'allenatore dell'anno Juventus campione, serie A Palermo campione di serie B Empoli forse la sorpresa di serie B non lo so sicuramente, comunque Empoli infine, ah la seconda classificata probabilmente serie B e la terza classificata di serie B, il Cesena molto bene ragazzi, queste erano le carte quindi se volete averle dove andrei in Nicola è oggi e mai più, penso, a meno che non ve le tengono quindi queste sono le carte ragazzi quello ben mi piace, iscrivetevi, commentate, mi raccomando e io vi aspetto in un prossimo video ciao a tutti da Cora019